Negli ultimi 15 anni abbiamo permesso a chiunque di vendere soluzioni sempre più commerciali. Sono partiti con l'aerobica, balli caraibici rivisitati e per finire hanno fatto saltellare le starlet del gossip, cercando di vendere servizi che in realtà erano di nostra competenza. La colpa non è loro, ma nostra. Non siamo stati abbastanza comunicativi e soprattutto educativi, per insegnare che le risposte le abbiamo da sempre. Perché allenamento con i pesi e corretta alimentazione sono le soluzioni che permettono di costruire un fisico bello, sano ed armonioso. Quello che voglio è fare qualcosa perché tutto ciò possa cambiare.